ma di là non si può passare scusa ah no di lì finisce lì eh che cacchio cioè veramente schifo guarda stavo guardando fuori ma non puoi passare nessuna parte e se no la giriamo fuori da lì intanto l'ha fatta però eh potevo dargli putrella bravo 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 io potevo dargli non gli ho dato ho avuto paura bravo 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 Occhio che arriva Angelo! Dai Andre! Magari è l'ultimo! Bravo! Andiamo! Ho sbagliato anch'io come te! Qua sono arrivato per dargli esti! Non riesco a muovere! Non riesco più a muovere!